come fanno quelli bravi ragazzi se io mi se mi mettessi a rispondere a tutti i pazzi e malati di mente su youtube soprattutto a quelli che dicevano che mi conoscevano a quelli che dicevano che parlavo con loro quando iniziarono su youtube sapete a chi mi riferisco no se mi metto a rispondere a tutti questi suini non la smetto più questa gente che di testa non c'è hanno dei hanno dei grossi problemi e purtroppo non riescono a capire che hanno dei grossi problemi gente diceva che parlava con me quando non era vero per farsi strada pensa come erano messi erano erano ridotti a dire parlava con me per farsi stare su youtube poi dopo ammettevano sì è vero ho detto una calzata arabi americani arabi americani americani arabi non posso rispondere a tutti i pazzi su youtube lo capite perché altrimenti non si parlerebbe più di calcio di inter io a differenza loro degli audio inventati e modificati ce l'ho degli argomenti ma l'argomento dell'ultima ora vediamo il sole ventiquattro ore è serio oppure no boom bam carlo festa colui che disse quello che gli esonerati dicevano dopo un anno e mezzo che a zang viene concesso il finanziamento octree concede il finanziamento a zang e a sua volta viene concesso a lui perché octree ha già il compratore festa sole ventiquattro ore zang e rifinanziamento complesso quasi impossibile ziliacus con antani la supercazzola quello il suino che ieri parlava di catarre per smentire noi no perché qui suino lì parla di catarre quello è ossessionato anche quell'altro è malato no non ci dorme la sera dopo due anni questa è gente che va curata ziliacus non ha un capitale tale da acquistare lì basta ziliacus non ha un capitale tale da acquistare l'inter l'interesse di altani è stato smentito da ben jacobbs che fu il primo a parlare di pif newcastle fu il primo a dire attenzione dopo che tutte le televisioni del mondo comprese quelle arabe che davano pif in acquisizione dell'inter fu il primo a dire attenzione c'è differenza tra domanda e offerta fu il primo ben jacobbs e ha detto che altani inter una fake news clamorosa noi siamo stati primi a parlare di kuwait airways in questo canale siamo stati primi a prendere i fischi sull'abbinamento tra sauditi scusami kuwait e catar scusami ho sbagliato ma i piccioli non sapevano che il catar aveva già sponsorizzato per anni una squadra saudita ve lo ripeto i malati di mente se mi metto a rispondere a tutti questi malati di mente non 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 faccio più video sul calcio ragazzi dovete giudicare voi giudicate voi e basta cioè questa è gente che non sta bene questi sono ossessionati non non accettano il fatto di non piacere quel cesso continua a comprare iscritti pensa siccome non abita in italia lui pensa di sfangarla poi la vedremo se la sfangherà livello le gare oppure no ciao e ah yeah ah Ha, 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 ha.